Se lei dovesse dire a una ragazza giovane di oggi, quello che si prova e come si vive stando in clausura davanti a Gesù sacramentato, come lo presenterebbe questo Gesù che viene a regolare la tua vita, che entra dentro di te? Cosa vuol dire vivere con Gesù sacramentato davanti agli occhi e nel cuore? E vuol dire aver trovato tutto. O Lord of my heart, not be all else to me save that thou art. Thou my best art, by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Avere tutto non è possibile, per lo dire. È superiore alle nostre povere forze. Be' thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great father, I thy true son. Thou in me dwelling, and I with thee, Lord. Thou my best art, my God. Ma lei alle ragazze di oggi lo consiglierebbe di entrare in clausura? Certo. Perché? Per provare, provare per credere. perché in fondo stiamo cercandolo ed è proprio perché siamo tanto tristi che ci manca Lui. The day I reach heaven's joys, O bright heaven's sun Out of my own heart, whatever befall Still be my vision, O ruler of all È l'unico modo per vivere un'altra vita ma io quest'altra vita un po' la vivevo anche fuori altrimenti non avrei potuto arrivare a 70 anni. Amen 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 Grazie a tutti.